Il Pineto trova la partita perfetta e spugna il Macrelli di San Mauro Pascoli battendo per 2 a 0 la San Maurese e si porta al quarto posto in solitaria. Uno squalificato per parte, Maioli nelle fila dei locali, Stefano Amadio invece per il Pineto che sconta la prima delle due giornate combinategli dal giudice sportivo. Nel 3-5-2 schierato da Mastro Nicola, Maggioli prende il posto di Maioli in difesa e il nutrito centrocampo sostiene le due punte Zuppardo e Pieri. Nel 4-3-3 di Amaolo, Esposito prende il posto di Stefano Amadio nel cuore del centrocampo supportato da Marianeschi e Camplone con l'inserimento di massa in avanti con Tomassini e Fratangelo. In porta Remo Amadio viene preferito a Fargione mentre parte dalla panchina il neoacquisto Wilson Cruz arrivato in settimana dal Francavilla. I biancazzuri approcciano bene la gara dopo soli due minuti. Esposito apre per massa ma la conclusione termina alta. Il risultato si sblocca al quinto quando ancora Esposito tenta l'incursione in area e viene messo giù da Baldassarri in uscita per il direttore di gara Campagni e calcio di rigore. Dal dischetto Tomassini beffa Baldassarri che intuisce ma non ci arriva. Partita subito in salita per i locali che accusano il colpo e al diciottesimo rischiano di incassare anche il raddoppio quando Fratangelo dalla sinistra sventola dalla parte opposta per massa che tutto solo, forse con un eccesso di altruismo, invece di calciare prova a servire Tomassini favorendo il recupero della difesa. Il Pineto tiene bene il campo e prova a impostare il proprio gioco sfruttando molto la corsia di destra dove massa è spesso lasciato libero di sbagliare. Al trentaquattresimo, bella azione corale che si sviluppa sull'asse Fratangelo-Tomassini-Massa con l'esterno che non trova il bersaglio grosso. Nel finale di primo tempo si fa vedere la San Maurese sugli sviluppi del corner battuto da Enrico prima Pieri tenta la conclusione respinta da Amadio poi prova Maggioli ma la difesa riesce a sbrogliare. Nella ripresa le due squadre ripartono subito forte botta e risposta al settimo Marini conclude dalla distanza Baldassarri non blocca, in agguato c'è Tomassini ma l'estremo romagnolo si salva in due tempi. Sul contropiede, Sumain, serve Scarponi la scodellata in area del capitano e l'anticipo in uscita di Amadio su Pieri. Al diciottesimo, Tegola per il Pineto Pepe commette fallo su Diop e viene ammonito era diffidato e salterà il derby di domenica prossima contro l'Avezzano. La San Maurese prova a recuperare le sorti del match al diciannovesimo Scarponi pennella la punizione per la testa di Rosini che da due passi costringe al miracolo Amadio. Al ventitreesimo reclamano per un calcio di rigore i romagnoli Zuppardo mette in mezzo il traversone Orlando spazza tra le proteste dei locali che vorrebbero il fallo di mano del difensore pinetese. Nel tentativo di recuperare inevitabilmente la San Maurese si espone alle ripartenze del Pineto al venticinquesimo Fratangelo riceve palla al limite la conclusione e la deviazione in corner al ventiseiesimo i biancazzurri mettono in ghiaccio la gara Massa dalla destra serve Tomassini nell'area piccola la girata sottomisura del centro avanti vale il 2-0 e la doppietta personale Passerella e applausi meritati per lui al minuto 36 quando lascia il posto al neo arrivato Wilson Cruz all'esordio con la maglia del Pineto nei minuti finali da annotare una conclusione dal limite alta di Pieri e la traversa di Ciarcelluti che di fatto chiude la gara si interrompe così la striscia di 5 risultati utili della San Maurese mentre il Pineto riscatta con una grande prova di forza il passo falso di mercoledì contro l'Agnonese e riprende la sua corsa in attesa del derby contro l'Avezzano che i biancazzurri dovranno disputare senza Stefano Amadio e Capitan Pepe Miseramaulo il Pineto torna alla vittoria e sale al quarto posto in classifica una vittoria importante una partita ben giocata la squadra ha prodotto tanto gioco Sì, diciamo una partita perfetta perché venire a San Mauro imporre il proprio gioco e vincere con merito sicuramente è seguito anche una prestazione importante quindi un grande elogio ai ragazzi che hanno interpretato bene la partita da fin dei primi minuti già nella prima frazione forse avremmo meritato qualcosa in più abbiamo rischiato pochissimo soltanto su un calcio piazzato dove magari il nostro portiere è stato decisivo però nell'arco di 90 minuti penso che abbiamo meritato questa vittoria giocando anche un buon calcio e venivamo da una sconfitta secondo me meritata contro l'Agnonese avevamo delle assenze importanti come Amadio, della Quercia Pietrantonico è arrivato all'ultimo momento qualche giocatore che il mercato ha portato all'ultimo istante nel nostro organico era una partita un po' non facile nel trovare l'approccio secondo me invece siamo stati proprio bravi in questo avevo un approccio mentale alla partita essendo aggressivi non facendo giocare la San Maurese che secondo me ha un ottimo sviluppo di gioco e dall'altra parte siamo stati abili a giocare spostare la palla e creare tante situazioni soprattutto sugli esterni con tantissimi palloni messi dentro l'area di rigore avversaria Mister Mastro Nicola sicuramente meglio il secondo tempo di questa San Maurese che però non è riuscita ad arginare il Pineto oggi ma fondamentalmente anche già nel primo tempo qualcosa di buono avevamo fatto purtroppo siamo partiti 1-0 per loro e questo è quello che fondamentalmente ci ha penalizzato tantissimo abbiamo provato in tutti i modi a mettere a posto la partita e ovviamente abbiamo concesso tante ripartenze al Pineto in cui potevamo soccombere ancora il primo tempo fortunatamente per certi versi è finito 1-0 e il secondo tempo magari con qualche situazione magari fatta un po' più con la mente fredda piuttosto che con il con il nervoso addosso forse l'avremmo potuta gestire meglio però alla fine è chiaro che concedi sempre qualcosa concedi soprattutto campo a una squadra che ha gamba e soprattutto tecnica per fare delle ripartenze molto importanti il caso ha voluto che non abbiamo preso il secondo colpo su una ripartenza ma su un'azione manovrata in cui noi ovviamente potevamo far meglio in tutto e per tutto